In questa lezione andiamo ad esercitarci con le funzioni DAX, Summarize e Tritas. Il nostro scenario cosa prevede? Abbiamo una tabella di fatti con un tipo di granulità e il valore di quello che i nostri esenti sono andati a vendere nel territorio e una tabella del target dove per ogni singolo prodotto abbiamo un target di raggiungimento. Il nostro obiettivo è creare un premio quando il valore è maggiore, il valore complessivo all'interno della ragione è maggiore al target assegnato nella tabella dei target quindi noi dovremmo sommare tutti questi valori. Qui abbiamo questa spaccatura fatta di proposito per fare l'esercizio appunto per vedere uno scenario dove abbiamo la tabella dei fatti e la tabella delle dimensioni dove abbiamo la chiave che sarà DIM A che è molti A molti, un tipo di relazione che in Excel non possiamo fare lo potremmo fare in Power BI, però comunque non è consigliato andare a fare questo tipo di relazioni quindi è meglio ragionare in modo differente. Ora nel primo caso andremo a ridurre la nostra tabella sorgente, ad esempio con Power Query andiamo a fare un'aggregazione e otterremo il nostro aggregato che è questo, quindi avremo la chiave che diventa 1, quindi univoca e il nostro target che viene sommato, quindi se sommiamo queste tre celle vedete che abbiamo 10. Quindi se andiamo a vedere il modello dati, che cosa facciamo nel primo esercizio? Abbiamo la tabella di fatti e la tabella ridotta dove appunto la chiave DIM A è legata e quindi abbiamo una relazione molti A1 relazione che quindi possiamo fare. Nel secondo esercizio lo faremo con la tabella originale senza nessun tipo di aggregazione. Quindi il nostro risultato, ripeto, sarà fare la somma dei valori contenuti all'interno della regione dei fatti e se questo valore è maggiore rispetto al target presente nella tabella di target, allora scatterà un premio per tutti gli agenti di quella regione. Come possiamo fare a fare questo tipo di calcolo? Allora andiamo a vedere appunto il nostro modello e questa è la prima funzione. Praticamente qui che cosa vado ad eseguire? La allarghiamo un attimino. Ok, così la vediamo bene. Qui abbiamo il nostro dato di partenza. Quindi cosa vado a fare? Vado a fare un summarize, creo una variabile, quindi si scrive proprio var. Faccio un underscore, perché generalmente quando creo una variabile ci si dà un metodo per dichiararlo. Io faccio un underscore, tg che sta per target. E poi con summarize vado a creare una tabella virtualizzata. Perché creo questa tabella? Perché io devo poter confrontare il totale del valore che è presente sulla tabella dei fatti col totale del target presente nella tabella dei target, che in questo caso comunque è univoco perché l'ho già aggregato. Però qui non è univoco, invece devo andare a sommarlo per poi poterlo confrontare. Quindi che cosa succede? Vado, apro la funzione summarize e qui i parametri che li devo passare. Il primo parametro è la tabella. Quale tabella voglio iterare? Nel nostro caso voglio andare ad iterare la tabella dei target. Così ragionerò poi in un risultato aggregato perché avrò la dimensione che è univoca. Dopodiché, quando facciamo punto e virgola, dobbiamo passare di parametri. Allora, se noi andiamo ad inserire questa cosa qua, vedete, io ho messo di ma perché voglio andare a creare una tabella che ha la chiave della mia regione, quindi il di ma. Voglio crearmi poi una colonna con il target, che praticamente è questo e ce l'ho già. E voglio crearmi anche una colonna col valore. Tutto aggregato con questa tipologia di aggregamento che vedete qua. Così poi diventa molto facile andare a fare l'aggregazione. Quindi dopo che abbiamo definito la tabella che è posta qui, facciamo punto e virgola, lui appunto ci dice, dimmi quale colonna di aggregazione vuoi andare a inserire, come vuoi aggregare questi dati. E quindi qua andiamo a mettere le dimensioni, quindi non i campi quantità, perché i campi quantità vengono generalmente aggregati nella funzione che esegue una aggregazione, una somma, una media, un max e quel che si voglia. Quindi qui se andiamo a scrivere direttamente il nome della dimensione, verrà riportata sulla tabella, quindi sarà il primo campo che viene riportato sulla tabella. Quando faccio il punto e virgola di nuovo poi, posso andare ad aggiungere una nuova dimensione, perché posso aggregare per quante dimensioni io voglia, come fare l'aggregazione e il raggruppamento su Power Questa è la stessa cosa, solo che qui lo vado a definire. Quindi così facendo punto e virgola vado a mettere la mia dimensione. Quando invece voglio lavorare con l'aggregazione, quindi ho un campo quantità che poi devo appunto andare ad aggregare, perché sto cambiando la granularità del mio risultato, che cosa devo fare? Devo andare dopo il punto e virgola, quando mi stufo di mettere le dimensioni, quando le ho messe tutte, vado a definire le misure in fondo. Quindi quando faccio il punto e virgola, se non do un nome fisico della tabella ma apro le virgolette e definisco un nome, questo sarà il nome della mia misura risultante. Difatti i campi di dimensioni basta mettere il nome della dimensione. Le misure devo sempre definire un nome, poi fare un punto e virgola, vedete che lui qui sente il nome, perché non mi dà più group by column name 1, 2, 3. Mi dà name perché sente che l'ho messo sulle virgolette, quindi ha capito che sto mettendo una misura. Quindi dice dammi il nome della tua misura risultante, poi quando vado a fare il punto e virgola, vedete che lui dice perfetto dammi l'espressione da associare a questa colonna target. E qui dobbiamo agire con delle funzioni di aggregazione, quindi facciamo la somma del nostro target. Dopodiché faccio un bel punto e virgola e vedete che mi dice perfetto dammi adesso la misura numero 2. Allora anche qui definisco un nome alla misura e poi eseguo la mia aggregazione del valore. Da questa cosa, ripeto, uscirà una tabellina di questo tipo, che sarà il target e qua ci sarà il valore aggregato, che sarà appunto la somma di questi valori qua. Quindi qui avremo praticamente 30, poi avremo 25 e poi avremo 5. Quindi avremo questo risultato nella nostra tabellina che abbiamo virtualizzato con Samarize. Su questa qui adesso andiamo a comprare l'operazione, quindi vediamo se questo è maggiore di questo, prendiamo il premio. Se è minore, come in questo caso, non prendiamo il premio. Quindi torniamo sulla nostra funzione. Che cosa vado a fare? Quindi io qui ho virtualizzato una tabella all'interno di questa variabile target, ok? Sto facendo appunto questo Samarize. Dopodiché, quando io dichiaro una variabile all'interno della mia misura, devo sempre definire un return, dove espongo il risultato che voglio dare a questa misura. Quindi qua potrei andare a definire tutte le variabili che voglio, ma quando devo andare a definire il risultato della misura, devo sempre metterlo sotto il return. Quindi sotto il return che cosa vado a fare? Io qui potrei dire dammi il risultato di target, però non funzionerebbe, perché le misure di per sé devono sempre avere un risultato aggregato. Se portassi il risultato di underscore target, lui andrebbe a creare una tabella, che però non è una misura. In Excel non lo possiamo fare. Potremmo farlo ad esempio in Power BI, creare una tabella virtuale con il DAX e poi connetterla con relazioni a farci i nostri calcoli con delle misure più semplici. In questo caso con il return che cosa vado a fare? Vado a fare un sumx, perché voglio andare a fare una somma riga per riga della tabella che ho appena creato e applico un filter di che cosa? Della tabella target che ho virtualizzato qua sopra. Io posso utilizzare le tabelle che definisco qua sopra solo se utilizzo delle funzioni con la X oppure il filter. Quindi definisco la tabella target, gli do il parametro, il filter e gli dico, punto e virgola, perfetto, che filtro vuoi fare su questa tabella. Quindi in questo caso sto andando a filtrare, perché vado a compiere delle operazioni su questa tabella virtuale che ho creata, ma la voglio filtrare, voglio togliere dei record. Quali record? I record che non raggiungono il target. Quindi gli dico, guarda, prendi il risultato del target minore a risultato di valore. Qui vedete che ho messo delle chiocciole, anche questo è un metodo che ci si dà, perché poi quando si scrive le misure, quando trovo la chiocciola, so che sono sempre misure che ho definito nelle variabili sopra. Se invece non si metto la chiocciola, ok, vedessi target, così mi viene da dire che magari è un campo che arriva da una tabella, quindi diventa difficile leggere la formula. Invece con Nandescore so che è sempre qualcosa definito a livello di variabile, la chiocciola invece è una misura che ho calcolata all'interno delle variabili, ad esempio in un summarize. Quindi qui faccio praticamente un filtro su questa tabella. Quindi la tabella che ho fatto prima, per essere ancora più chiari, questo vince perché il valore è maggiore di 10, questo vince perché è maggiore di 20, questo fallisce perché è minore di 10. Quindi il risultato dal mio filter, io andrò a lavorare su solo questi due record qua, ok? E qui quindi ho filtrato la mia tabella. Adesso che cosa gli dico sul SUMX? Riga per riga vedete c'è l'espressione, che cosa voglio farmi? Per ogni riga della tabella risultante mi vai a fare il valore per il target, che poi adesso questo lo cambiamo, ho messo il target per farvi vedere effettivamente il risultato in modo che sia più comprensibile. Quindi vado ad eseguire questa operazione. Quindi sui due record che ho ottenuto dal mio filtro, qui vado a fare praticamente questo per questo. Adesso non funziona perché devo fare C2. Ok. Vedete che ho 300 e poi ho 500. E se andiamo a vedere qui è esattamente il risultato che ho ottenuto. Se volessi non dare il target che non ha molto senso, ma era per fare un esempio proprio con i dati che ho qui, potrei dire perfetto, quando raggiungo il target me lo moltiplichi, quindi do un premio del 20%, quindi potrei fare per 0,2. Se faccio invio, vado poi nel mio foglio e quindi qui Lombardia ha beccato il target, Veneto anche, quindi gli agenti riceveranno un premio di 5 euro, 6 euro, quello che è. Ok. E così ho definito il mio premio. Ma come faccio ad eseguire la stessa identica operazione senza andare a fare l'aggregata, la tabella aggregata e quindi non ho la tabella fisica su dove poter lavorare. Quindi la relazione qui non la posso fare, perché di fatti se provo a fare la relazione mi dici Oh, guarda che non lo puoi fare perché i due campi sono molti a molti. Allora, in realtà è più semplice di quello che può sembrare. Questa è la nostra funzione iniziale. La funzione modificata è questa. In realtà vedete che è molto simile alla precedente. Io ho sempre il summarize. Dico che sto iterando la tabella del target origini, in questo caso, che è quella senza l'aggregazione. Mi tiro fuori sempre la chiave del DMA, quindi mi sto tirando fuori il campo anagrafico della regione. Quindi aggrego per questo campo. E poi definisco sempre il target, che è una somma. Dato che lavoro qui, ok. Ok, vado praticamente a fare una somma del mio risultato, perché in questo caso ho anche questa dimensione qua che mi spacca il dettaglio di Veneto. Quindi aggrego per Veneto e faccio la somma di target. Dopodiché cosa faccio? Vado a fare sempre il valore e in questo caso faccio sempre il sum di valore. Però per poterlo fare funzionare, dato che in questo caso non abbiamo la relazione con la tabella di fatti, dobbiamo utilizzare il Tritas. E Tritas è accompagnato generalmente con la funzione Calculate, che ci permette di appunto mettere un contesto di filtro alla nostra aggregazione somma. Quindi nel primo parametro del calcolo ci faccio sempre la somma. Nel secondo parametro, Tritas, che cosa fa? Mi dice, quando entro nelle parentesi, che qua non me lo suggerisce, mi dice dammi le due chiavi, diciamo, che devono comunicare tra loro. Solo che qui la relazione è molto e molto, no? Quindi va sempre, Tritas va accompagnato con Values, quindi vado a fare un istinto della tabella, della chiave che è presente nella tabella delle dimensioni. Ok, Values, estrago i valori distinti. E li metto in relazione, o meglio, diciamo che Tritas va a compiere un filtro con quelli che sono presenti nella FAC DIM A. Qui, rispetto al crossfilter, se lo conoscete, non possiamo invertire le dimensioni. Dobbiamo metterle proprio in quest'ordine. Io sto aggregando sulla tabella origine, ok? E quindi qui vado a fare il distinto sulla tabella origine. E poi, una volta che ho il distiltro, mi filtro tutte le righe che sono presenti nella tabella dei fatti. Così facendo è come se avessimo creato una spezia di relazione virtuale. Non è proprio così perché il Tritas fa semplicemente un filtro, perché lui prende appunto il distinto, entra di qua e filtra tutte le record che esistono. Per i record che esistono lui va ad eseguire una somma. E appunto, avendo l'agganzo, riesce poi a spalmare la quantità nella tabella delle dimensioni nel modo corretto. Questo è il modo per ottenere la nostra tabella virtuale. In questo caso otteniamo esattamente lo stesso risultato che avevamo ottenuto prima. Quindi, anche se non abbiamo la relazione fisica, stiamo lavorando con molti e molti e col Tritas, otteniamo la tabella virtualizzata che è uguale a prima. Esattamente questa. A questo punto diventa molto semplice avere il risultato finale. Abbiamo sempre il Return, dove qui andiamo a fare sempre il nostro Samix che abbiamo visto in precedenza. Quindi andiamo a prendere la tabella Target che abbiamo virtualizzato qua su. Confrontiamo il Target che sia minore del valore e poi compiamo la nostra operazione, che anche qua possiamo andare a sostituire con il 20% ad esempio. E ecco qua che quando andiamo nel nostro foglio abbiamo il nostro risultato. E vedete che anche il totale ragiona nel modo corretto, perché è proprio questo anche il focus, no? Perché finché siamo a livello di riga, noi possiamo ragionare sulla dimensione che è posta sulla riga. Quindi qui la misura ragiona con questo filtro. Quando siamo sul totale, lui non riesce a capire se sto ragionando con Lombardia, con Veneto o con Piemonte, ok? Quindi il Samarize è importante per questo. Se io non utilizzassi il Samarize e facessi la moltiplicazione e il confronto, magari avrei il risultato corretto a livello di riga. Però a livello di totale non sarebbe corretto, perché il valore verrebbe sommato quando va a fare il controllo. Se il valore è minore, è maggiore del Target, andrebbe a fare il controllo sul totale della mia tabella di fatti. Appunto perché sul totale io non ho la dimensione esposta. Invece col Samarize, che è proprio questo il gioco di questo esercizio, io vado a definire una tabella che è già filtrata e aggregata. E poi quando vado a fare la mia somma qua sotto, filtro la tabella col risultato. Però ragiono qui e quindi qui vado proprio a tagliare il record prima di arrivare nel totale. Così poi il totale mi torna corretto. Ok, spero di essere stato abbastanza chiaro. Per chi può scaricare l'esercizio, lo trovate in legato, così potrete scaricarlo, provare a fare un po' di prove per conto vostro. Per chi non lo è, magari pensate a stipulare un abbonamento, così magari potrete supportarmi col canale, con tutto quello che sto facendo. Se invece non siete iscritti, iscrivetevi al canale e iniziate a seguirmi. Se invece vorrete supportarmi in altro modo, in descrizione trovate tanti altri sistemi per darmi una mano. Vi ringrazio molto per avermi seguito fino a qui. Ci vediamo al prossimo video. A presto, ciao!